ci siamo ci siamo abbiamo il tempo materiale per poter raggiungere scopo sembra che sbaglia metterla n di napoli non ti devi sbagliare perché la n è molto importante per te è certo grande significato napoli allora 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 preparato le ciotole per dopo l'acqua sale peteroncino tazzoline cucchiaini cucchiarella di legno preparo le cose allora 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 mettiamo per prima cosa il mais dentro le ciotoline per dare la misura giusta paurizio salam haia salam buona salam ciao una e due c'è come vai dirli nel gliole che mandi la merce è la bellissima due idee due idee di mais ma già comodata tra l'uomo senza olio quella della base essenziale senza olio se ne sono con un cucchiaio un cucchiaio di acqua e un cucchiaio di acqua solo un cucchiaio d'acqua e poi un po' di peperoncino come prezzi si la bella bella l'uomo un po' di sale iniziamo pure sì ok ci sono i suoi Giacomo poi giriamo il tutto lavo io li miei o li lavi tutti te lavo tutto io lavo tutto io passiamo al lavaggio del mais allora colino di quelli normali in acciaio lavare molto bene ok ho fatto il salto porto il piatto qua porto il piatto qua salam Giacomo ciao ciao ti ha detto salam non ti ha detto ciao salam 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 tu fai i tuoi vai il mio è pronto io ti inserisco i tuoi grazie salam da Milano lasciali lì Giacomo grazie lasciamo qua e passiamo all'altra fase l'iniziamo io vado Giacomo dai uno via uno due un secondo dai un attimo il gioco si fa bello ai 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 non bello allora uno due ti saluto e attendiamo cosa fai di buono ti saluto da Bologna Bologna bella Bologna Giacomo racchi qua finisci prima e vinci si si cosa vince cosa vince dai ti alzo un po' sino vincolo io ma ecco chi stavi no ma devi guardare alla pari alla pari dobbiamo andare stiamo andando alla pari complimenti Giacomo amico grazie di Cività vecchia Cività vecchia vicino a Roma ok tieni tieni girato se non si brucia giriamo ah il peperoncino giusto perché mi abbiamo messo il peperoncino nel nostro no vei ho ce ne ho mi piace all'anno boll ciao ragazzi anche stasera facciamo qualcosa di nuovo per voi la ma in per pad dà di Maurizio sì, bella copia, grazie. Grazie, grazie. Like, liat, 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 ci siamo quasi. Grazie. So, am I fond, and I'm Finanz. È come sui Oh wey asso al fattore Nessun Cosa finora No, no! Vedi! Questi ho detto Per questo Qu'è? Per questo Faccio il quale Si fatti Bote Viene Qu anneccia Sì, è stato un po' di 20 anni, molto bello! Grazie a tutti! Alla prossima! Vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni, vieni! 3 4 4 5 6 9 9 10 Basta il fuoco, altrimenti si brucia. Chiudi, chiudi! Tieni il calore! Chiudi, chiudi! Dicano che vinci tu, non lo so! Oh, la mia! Oh, la mia! Questa che vincere la mia! Buono! Non si non poteva il nostro. Si che voleva il nostro. Io je la mia, è una. Che dico! È una cosa che si traccia ins창are. Non, non che se ci quando la mia. Non si… È un modo che si traccia inscendente. È una cosa che hai… complementary Siegge le into dimensionazioni Grazie Certo Ciao Non èUNUME Il було del giacomo Dio, 과 ofhai Vorrei Noi Noi Ave dai su la mia è piena guarda c'è fuori i bieli non vi faccio vedere la tua guarda guarda mi scoppiettano dai ma la differenza c'è si saranno pronte prima le tue ma le mie sono più saporite si sente un profumo diverso che meraviglia non aprire giacomo calzocomis calzocomis quella vai 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 maria saluta questo ragazzo che ti segue tanto il figlio di maria ciao ciao arduan ciao carica è molto molto nutriente e salutare come senza olio quindi non viene fritto va molto bene in modo naturale certo un pochino di sale ci vuole il peponogino perché a me piace finito io ho vinto io ho vinto io ho vinto bella guardate qua che meraviglia ho vinto il Giacomo ancora un pochino c'è ancora qualcuno sotto buona io li metto dentro la mia ciotola vai con la ciotola spieni la ciotola no no un pochino piano piano vabbè 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 i vediamo la ciotola ok vabbè 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 ma non me le vuole fare il cuore eh? e tu, non ti faccio il giacomo niente non ti faccio non lo so, non lo so 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 non lo so sono un po' diverse no diversi, sono belli i miei belli i miei sono più nutrienti, più più forti prendi i tuoi io prendo i miei vediamo è di Auliana è di Auliana è di Auliana sono brutti è lì il gioco duro mamma mia guarda che belli guarda questo sono tardi dovete sentire il sapore del peperoncino spettacolare andiamo a vedere il film adesso certo vi salutiamo ciao ragazzi ciao 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 ora vi faccio qui 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 non la testa non la fai venire bravo ciao 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 Grazie a tutti